Un piacere, grande piacere ospite, di avere ospite, ma voi partite! Mica, facciamo un video veloce così poi vado a dormire. Dai, non perdere il cilare. Oggi è il pomeriggio domani sera. Ciao ragazzi, buon Natale! È il pomeriggio del giorno di Natale, quindi questa mattina mi avevo aperto i regali che questa notte ci ha portato Babbo Natale. Ho ricevuto esattamente ciò che avevo chiesto, ovvero il NES, il Nintendo Classic Mini, uscito lo scorso mese e andato a Ruba. Non vedo l'ora di giocare, ma mi sembrava carino per il canale fare un video unboxing, quindi eccoci qui. Ok, ci siamo. Aiuto, libretto di istruzioni. È ok. Non ce l'ho fanato. L'ho fatto in mezzo a mezzo per i fotografici, quindi è in questione. Allora, c'è una linguetta qua. Ah no, ok. Il contraio. Questo dovrebbe essere il controller. Solo uno, il secondo va acquistato a parte. Infatti Andrea mi ha detto di portarlo su quando saliamo. No, no, a fine. Così ci facciamo torneo di Capodanno. Ah, c'è un attacco. È veramente piccolissimo. Io pensavo fosse veramente più grande. Sì, anche io. Cioè io vedevo l'immagine nella scatola con la mano che lo teneva e avevo dato per scontato che i miei costanni hanno tutti le mani più grande delle mie. No, ma anche io credevo fosse grosso più o meno come la scatola. Invece è veramente piccolissimo. Sì, pensavo fosse non grande come la scatola, ma comunque... Un po' più grande, sì. Sì, esatto. Non il doppio, ma decisamente un po' più grande. Piccolissimo. Ok, quindi controller, console, ovviamente. E dovrebbero esserci due cavi. Ok. Uno e due. C'è un HDMI e questo HDMI. HDMI e questo è il cavo che va alla presa... Sì, è il cavo di alimentazione. È un USB, un microSD. Quindi quello che si trova nella scatola è il libretto di istruzioni, controller, console e i due cavi. E tu adesso sei l'addetto a attaccarlo alla televisione. Ma troppo piccolo, davvero? Cioè, mi fa troppo strano. A che cosa vuoi giocare per primo? Giochiamo Super Mario. Io Super Mario Bros. 3, mi sa. 3 che ce l'hai a tua capote. Sì, non ce l'hai subito. E vabbè, la prendiamo. Sì, non ce l'hai subito. Speriamo che questo mini video unboxing vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete acquistato questa console. Io volo a provare i giochi restanti. E io purtroppo devo ancora studiare. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!